Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo, pressione atmosferica più o meno stabile sul nostro territorio. Tempo buono e solo localmente instabile. Vediamo dove nel dettaglio di mercoledì 31 maggio. Sul Veneto il mese si conclude con cielo in prevalenza soleggiato. Nella seconda parte della giornata sulle zone montane e pedemontane saranno possibili delle precipitazioni in locale estensione fin verso le pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 12 e 18 gradi, massime invece tra i 24 e i 27 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo velato con qualche rovescio o temporale dal pomeriggio, più probabilmente sui monti. Su pianura e costa soffierà bora moderata. Temperature minime sui 17 e 19 gradi, massime intorno ai 25 e 27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove al mattino avremo tempo soleggiato, con qualche isolato rovescio però nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 13 e 14 gradi, massime sui 26 e 28 gradi all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento.